Cari amici, un car saluto da Mario Giuliaci. Alcuni commenti in questo momento sui social dicono che la nevicata prevista in Valpadana in effetti non ci sarà perché il cuscinetto di aria prossimo al suolo è troppo caldo e quindi il fiocco di neve fonderebbe prima di giungere al suolo. In effetti attualmente oggi alle ore 14 del 7 di dicembre i primi 700 metri hanno temperature di 6-7 gradi. Chiaro che sono valori troppo alti perché possa nevicare, ma chi nega la nevicata di domani ha commesso una grave dimenticanza perché infatti questo strato caldo verrà sostituito nella prossima notte in Valpadana da venti gelidi di origine polare adesso a ridosso delle Alpi e che nella notte prossima sfoceranno sotto forma di bore in arrivo dei Balcani su tutto il nord Italia tanto che le temperature nei primi 700-1000 metri crolleranno fino a raggiungere il valore tra 1 grado e 0 gradi i valori ideali perché la neve possa arrivare fino in pianura. Grazie Grazie Grazie.